Il teatro è indice della civiltà di una terra e del suo popolo e anche da qui passa il rilancio della cultura che nella nuova città di Corigliano Rossano assume una valenza straordinaria. In tale ottica lo storico Cinema Teatro Metropol diventa un vero e proprio tempio della cultura che nel solco della continuità offrirà all'intero comprensorio una stagione teatrale di alto spessore. La rassegna 2018-2019 organizzata dalla famiglia Cicero unitamente al direttore artistico Nando Sessa è stata presentata ufficialmente nel corso di un'apposita conferenza stampa tenutasi nel foyer del Metropol. Che significato assume oggi questa stagione teatrale e che messaggio si intende lanciare in questo particolare momento? Sicuramente voler continuare una tradizione teatrale così come è abituato il territorio e con spettacoli di grosso calibro con artisti di indubbia bravura a livello nazionale. Noi abbiamo voluto comunque essere le promotrici della prima stagione teatrale della nuova città Corigliano Rossano. Forse doveva andare così perché era giusto che le proprietarie, la proprietà o comunque chi è erede di una grande imprenditore che ha costruito questo che è un tempio della cultura per il nostro territorio gestissero questo aspetto culturale del territorio. Un cartellone ricco quando si inizia? Iniziamo il 28 novembre con un fuori abbonamento che vede la presenza sul nostro palcoscenico di Facchinetti Fogli che rappresenta insomma la storia della musica italiana per poi proseguire il 18 dicembre con Biagioizzo. Continueremo la stagione a seguire il 4 gennaio i ditelo voi, l'8 febbraio Massimo Lopez e Tullio Solenghi, il 3 marzo il musical tour, poi abbiamo l'11 marzo Beppe Grillo, per finire Maria Grazia Cuscinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi il 26 aprile con figli di Eva. Parlando di teatro e di amore per questa forma di arte, quanto è ancora difficile oggi fare teatro e investire nella cultura? Noi lo facciamo con il cuore perché ovviamente lo diceva anche il direttore artistico chi vuole vivere di cultura muore povero. E' anche vero che un territorio che non ha un teatro, che non ha cultura è un territorio che non ha futuro, pertanto noi vogliamo rappresentare sempre questo, un futuro bello per il nostro territorio, ci crediamo, andiamo avanti. La direzione artistica è stata affidata a Nando Sessa che ai vertici di importanti produzioni teatrali italiane ha lavorato al fianco di maestri del teatro di alto prestigio e diretto attori del calibro di Garrone, Placido, Gazzolo e la cantante lirica Katia Ricciarelli. Attualmente dirige il teatro Ghione di Roma del grande Giorgio Albertazzi, un cartellone quello messo a punto frutto di scelte ben precise. Quest'anno abbiamo cercato un poco di essere attenti anche viste le condizioni che hanno dato il nuovo là alla stagione, di preservare alcuni spettacoli. Non ho riconfermato chi già c'era stato, chi invece già c'è stato l'anno scorso l'ho riconfermato perché per esempio vedersi l'apertura della stagione con Biagio Izzo che ha un matrimonio, una treade interessante, che è la regia di Miale che a mio avviso è tra i trentenni più accreditati nel panorama italiano come regista, che è Miale, Peppe Miale, con una grande penna che è quella di Edoardo Tartaglia. Quindi una scelta di apertura non perché già c'era scritto ma perché è un matrimonio interessante, quello di vedere come questo regista e questa penna possono imbrigliare un leone da palcoscenico come Biagio Izzo. Poi un'altra bella penna è quella della triade di Ditelo Voi, molto noti per i giovanissimi per il fenomeno Made in Sud. Però sono al di là di tre straordinari artisti, ho avuto il piacere di avere in prima nazionale questo spettacolo di Ditelo Voi e vi garantisco che a mio avviso è forse più bello che hanno fatto finora, dove c'è grande teatralità e Lopez Solenghi a cui credo tutti ci siamo legati per la passione che aveva il vecchio trio senza dimenticare mai la Marchesini, cosa che loro fanno per un amore che si portano dentro e riescono a trasferirlo al pubblico. E poi la parte interessante è quella di aver voluto legare quest'anno uno dei musical che è prodotto da chi è stato molto vicino a The Zard, un patron del, come ricordate, del robo di Notre Dame, questo è un musical della Marvel con il leggendario Thor, un musical dove non vede nomi come lo era del resto Notre Dame de Paris, ma dove l'impianto scenico, la regia, l'assistenza alla regia è altissima. E poi quest'aspetto sociale che è solo artistico, a mio avviso, non politico, è quello di Insonia, di Beppe Grillo, che sicuramente avrà grande curiosità, per me soltanto un attenzionamento artistico, e chiudere con un aspetto sociale che è quello delle donne, tant'è vero, è l'ultimo spettacolo con tutte le donne, che è figlia di Eva, dove chiuderemo ad aprile, speriamo di aver fatto bene. E per mia colpa, dico, quest'anno non c'è commedia, non c'è prosa, ma l'anno prossimo sicuramente ci sarà tantissima. Sono in itinere dei DDL affinché dei processi vengono a segnare che mai la cultura muoia, mai i templi della cultura abbiano a finire, perché sarebbe un danno non all'impresa, perché, ripetiamo, le strutture non sono purtroppo un'impresa, ma perché la popolazione non perde il diritto di vivere certi processi. Io ritengo, non possiamo aspettarci nulla dall'assistenzialismo, non si può pensare che il teatro deve esistere per l'assistenzialismo, che vuoi che sia esso politico e economico, questo no. Però laddove ci sono dei fattori umani, come l'amore, esempio della famiglia, che in cuore ha questa struttura, che è storica, per la sua vitalità, ritengo che la risposta sta già in questo dato, laddove chi fa della struttura teatro, il teatro, quello oltre il palcoscenico, l'amore per queste due cose, fa da sì che il teatro non morirà mai. Nel corso della presentazione ufficiale della stagione teatrale sono intervenuti anche Giuseppe Graziano, promotore della legge regionale che ha istituito la nuova città di Corigliano Rossano, e l'orafa Anna Perri, tra gli imprenditori che hanno contribuito alla realizzazione del cartellone. Unanime l'auspicio di una crescente sinergia fra tutte le forze del territorio, nella consapevolezza che il teatro, e il metropol nello specifico, è patrimonio di tutti.